Per essere conforme ai nuovi standard di comunicazione qualificata su ciascuna delle caselle PEC che stai utilizzando, dovrai attivare la verifica in due passaggi, un sistema di autenticazione che aggiunge un ulteriore livello di protezione rispetto ai soli username e password. Ogni accesso alla casella dovrà essere autorizzato tramite una notifica che arriverà sul dispositivo scelto dal titolare. Come si attiva la verifica in due passaggi? Attivarla è semplicissimo. Basterà accedere all'app gratuita RubaPec, attivare la verifica in due passaggi, confermare l'operazione tramite il codice che riceverai per SMS. Nel caso ancora tu non l'abbia fatto, l'inserimento del codice ricevuto via SMS consentirà di validare contestualmente anche il tuo numero di cellulare, così da utilizzarlo come contatto verificato e sicuro per l'invio delle richieste di autorizzazione. Una volta attivata, tutti gli accessi alla casella o la conferma di alcune operazioni potranno avvenire solo dopo specifica autorizzazione da fornire sul dispositivo che sceglierai di associare alla verifica in due passaggi. L'attivazione della verifica in due passaggi insieme alla conferma dell'identità del titolare della casella aggiungeranno maggiori sicurezza la tua PEC e ti renderanno conforme ai nuovi standard europei di comunicazione qualificata.